Dopo una breve pausa i ladri tornano nuovamente in azione nel golfo di Policastro e parte dell'area furtiva è stata già rinvenuta. Lunedì scorso alle tre di notte i malviventi si sono introdotti in un appartamento situato sul lungomare di Villammare, un appartamento dislocato su due livelli. Sono entrati nella casa dall'ingresso che affaccia sul giardino e non da quello sulla strada che costeggia il lungomare. Una volta dentro hanno tentato in vano di mettere a segno il colpo stabilito. Di fatti sono stati messi in fuga dal proprietario della casa che appena si è accorto della loro presenza è sceso giù per capire cosa stessi accadendo. I malviventi hanno capito di essere stati scoperti e se la sono data a gambe sotto gli occhi dell'uomo che li ha visti allontanarsi con alcuni oggetti in mano. I carabinieri appena dopo contattati sono giunti sul posto. Durante i primi sopralluoghi hanno rinvenuto abbandonati lungo la strada alcuni piatti d'argento che erano riusciti a portare via dall'appartamento e che sono stati già consegnati al legittimo proprietario. Resta ora da capire se la banda è stata abbastanza furba da eludere tutte e sedici le telecamere comunali che video sorvegliano la cittadina rivierasca. Carabinieri e vigili urbani sono già alle prese con la visione delle immagini registrate quella notte mentre nessuna ripresa ci sarebbe a disposizione per il colpo messo a segno sempre lunedì notte presso il centro scommesse SNAI in corso Garibaldi a Sapri. Di fatti la zona nonostante centrale non è video sorvegliata e l'impianto all'interno del centro scommesse è stato distrutto dai ladri prima che entrassero in azione. In questo caso hanno rubato la cassaforte mobile in cui erano custoditi circa 150 gratti e vinci e una piccola somma di denaro contante. Per entrare hanno forzato il portone d'ingresso chiuso anche con un catenaccio. Non è escluso che i due colpi siano figli della stessa banda di ladri. Furti sui quali indagano i carabinieri e chi arrivano a distanza di poche settimane dall'ondata registrata a Policastro nei giorni a cavallo delle feste di Pasqua. La compagnia dei carabinieri di Sapri ha in corso numerosi servizi tesi a contrastare i reati contro il patrimonio soprattutto nelle ore notturne.